L'Iquami in strada oggi tra via dei partigiani e piazza del popolo a Como a causa di un problema alla fognatura. Nel corso della mattinata una ditta specializzata è intervenuta per iniziare a riparare il guasto che pare si sia rivelato più serio del previsto. Sul posto oltre agli addetti dell'azienda specializzata anche il personale degli uffici tecnici del comune di Como. In base a quanto rilevato dagli uomini intervenuti per sistemare il guasto il collettore principale della fogna all'altezza di piazza del popolo era stato intasato molto probabilmente ad alcuni blocchi di grasso che si sono accumulati negli scarichi nel corso dei mesi. La ditta incaricata ha lavorato tutta la mattina per rimuovere l'ostruzione. Il corretto funzionamento della fognatura è stato ripristinato nel pomeriggio attorno alle 15 e 30.